Secondo me ha tutto da portare Sanremo al rap e anche il rap a Sanremo in questo periodo storico dove le persone dividono sempre il rap dalla musica italiana no, il rap adesso fa parte della musica italiana anche se guardi in classifica è questo, io penso che col tempo ci saranno anche rapper che andranno a fare rap a Sanremo penso che questo cambiamento ha un nome, è De Amadeus il lavoro che ha fatto lui su Sanremo è stato immenso io dico sempre una cosa, prima i ragazzi guardavano Sanremo perché andavano a casa e la famiglia già stava guardando Sanremo adesso con questo lavoro che ha fatto Amadeus che è portare la musica di oggi a Sanremo adesso i ragazzi vanno a casa, accendono la tv, con la loro mano prendono e accendono per guardare Sanremo che è una differenza assurda perché prima veniva guardato perché veniva guardato in famiglia perché Sanremo fa parte un po' della cultura italiana adesso i ragazzi vogliono vedere Sanremo, i ragazzi vogliono votare, vogliono seguire il festival io a volte incontro persone diciamo mature, più grandi e quello che mi dicono è io non ti conoscevo, ti ho conosciuto tramite mia figlia e questo generazionalmente cambierà sempre i ragazzini che ora ascoltano rap da grandi ascolteranno il rap e i loro figli ascoltano il rap quindi questa cosa cambierà sempre di più col tempo speriamo